E' fin dal momento del suo annuncio che stiamo seguendo con grande attenzione il nuovo titolo di Arkane Studios prodotto da Bethesda. Disonored è infatti uno shooter in prima persona dalla grande componente stealth realizzato dai designer di Deus Ex, Tiff ma anche Dark Messiah of Might and Magic. Finalmente siamo riusciti a rivederlo dal vivo grazie a un evento in cui siamo stati invitati in esclusiva e quella che segue è la nostra breve ma intensa video anteprima. Sviluppato da Arkane Studios, Disonored ci metterà nei panni di Corvo, la migliore delle guardie dell'imperatrice di Pandissian, un impero ormai sul baratro della decadenza. Proprio Corvo viene incolpato per l'assassinio dell'imperatrice e la capitale Downwall finisce in rovina a causa del nuovo regime e della peste che ha colpito il popolo. Si tratta di una premessa affascinante ma anche necessaria a contestualizzare l'azione perché Disonored è un titolo che vive non solo di assassini nell'ombra ma anche e soprattutto di atmosfere, di architetture impossibili, di design. La città di Downwall è un ambiente ostile, tormentato, una città vasta e contorta che sarà familiare agli appassionati di steampunk e del neorenascimento. Il gioco di Arkane Studios è uno stealth game ibrido, fortemente caratterizzato dai poteri a disposizione del protagonista. Il giocatore si muoverà completando una serie lineare di missioni, una per ogni responsabile della congiura ai danni dell'imperatrice. Si tratta di un'esperienza di gioco lineare che lascia totale libertà al giocatore solo all'interno delle singole missioni che permettono una moltitudine di approcci differenti. Lo stealth è favorito e incoraggiato da molte meccaniche, ma non rappresenta l'unica via possibile. Nonostante la visuale in prima persona, l'esplorazione dei livelli si rivela estremamente dinamica, è sufficiente saltare verso un qualunque appiglio perché il protagonista vi si appenda e si arrampichi automaticamente. Ma uno degli elementi più importanti è rappresentato proprio dai poteri di Corvo. Il protagonista ha infatti a disposizione un certo numero di abilità magiche donategli da un misterioso personaggio. La prima di queste è nota come Blink. Dirigendo lo sguardo verso un punto d'arrivo, è possibile teletrasportarsi istantaneamente, superando qualunque ostacolo nel mezzo. C'è una riserva d'energia per gestire questi poteri, simile al classico Mana, che può essere recuperato utilizzando appositi elisir. Un altro potere mostrato si chiama Dark Vision e permette non solo di vedere i nemici attraverso le pareti, ma anche di conoscere la direzione del loro sguardo, efficacemente rappresentata da un cono luminoso. A fronte di poteri tanto speciali, Corvo ricorre talvolta a trucchi ben più tradizionali per muoversi e raccogliere informazioni senza essere visto. Avvicinandosi ad una porta chiusa, sarà ad esempio possibile accostare l'occhio al buco della seratura e sbirciare, così da farsi un'idea della situazione all'interno e al tempo stesso origliare. Ascoltare le conversazioni non è un esercizio fino a se stesso, visto che ogni qualvolta si penetra una struttura, la prima cosa da fare è individuare la posizione del bersaglio. E infine troviamo il potere della possessione, la quale permette per un limitato periodo di tempo di prendere il controllo di qualunque personaggio o animale presente nello scenario. Il modo in cui si deciderà di affrontare gli incarichi andrà inoltre ad influenzare, almeno in parte, l'andamento della storia. Dishonored prevede infatti tre diversi finali, che si attiveranno tenendo in conto il quantitativo di uccisioni necessarie al giocatore per arrivare ai propri scopi. Non c'è ancora una data precisa per l'uscita del gioco, ma speriamo di tornare a rivederlo quanto prima.